Hello guys, Ragnana here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Airstone e oggi abbiamo un video un po' particolare che non ho mai registrato Andiamo ad aprire ben 60 pacchetti di carte di Airstone, quindi iniziamo subito perché sono davvero tante, farò davvero tanti tagli e nulla Speriamo di trovare un sacco di leggendarie Signori, abbiamo 60 pacchetti di carte, io partirei con il primo, vi ricordo che le leggendarie sono di colore arancione e sono quelle che cerchiamo perché sono quelle che valgono di più Primo pacchetto, prima emozione, ce ne mancano ancora 59 e qua signori non abbiamo trovato niente, che pacchetto delca, via via via, roba inutile, via via Noi cerchiamo Dr. Boom che è una leggendaria piuttosto forte in questo momento su Airstone Signori, niente, niente, schifezza, schifezza, che schifo Oh, ho visto un viola, ho visto un viola, viola sono le carte epiche, cacciatore, non uso l'hunter, però ci sta utile, ci sta utile, nel caso la potrei riutilizzare per smontarla Molto comoda, molto comoda Signori, signori ci sono due viola, signori ci sono due viola e due blu, mamma mia che pacchettone Boom, oh, viola dorata, e andiamo così, e andiamo così, quella va dritta dritta ad essere smontata Sono già passati otto pacchetti, signori, con questo ovviamente, e ancora niente leggendari, questa cosa non mi piace Ma c'è una viola, c'è una viola, attenzione, cos'è? Un'altra del warrior Io non gioco warrior, mi serve dr. Boom, fammi uscire dr. Boom Schifezza, schifezza elettronica proprio Sono passati dieci pacchetti, io me lo sento, in questo pacchetto qui, che è il cinquantesimo pacchetto Io me lo sento, signori, questo c'ha una leggendaria, ma manco per il cazzo la leggendaria, manco per il cazzo Signori, una epica, e andiamo così, e cazzo sì, per il paladino, che è un'altra classe che uso, quindi quella mi piace Signori, per il momento abbiamo aperto quasi venti pacchetti e neanche una leggendaria Adesso lasciate un mi piace, perché il quarantunesimo pacchetto dentro c'ha una leggendaria Quindi più mi piace mettiamo e più leggendarie escono Su, mi piace e andiamo Oh, leggendaria, leggendaria, mamma mia, anche una epica, mamma mia che pacchettone Apriamo prima la epica, uh, buona buona questa, ma, signori, apriamo la sedia, dottor boom, vi giuro che lancio la sedia nell'altro mondo Oh, grandioso, anche questa è ottima, oh, il sega tronchi, perfetto, perfetto Prima leggendaria, e ci sta, e vai cazzo Ah, niente, niente, ventinovesimo pacchetto, signori Dai, dai, apriamo, epica, oh, una epica, per lo sciamano non me le faccio niente, però almeno l'abbiamo trovata Dai, così, un po' di arancione Niente, niente, niente Signori, signori c'è una blu, e signori c'è una viola Cos'è? Sempre palladino, questa l'ho vista giocata E' simpatica come carta, me la tengo molto volentieri, molto volentieri Ormai ci ho perso la speranza, signori Abbiamo aperto quasi 40 pacchetti, e ne è uscita solo una di leggendaria Sedicesimo pacchetto, signori, inizio a piangere Non vedo più leggendaria, non vedo l'arancione E se non vedo l'arancione, signori Piango, piango, guardate, guardate Niente, niente, non c'è nulla Signori, questo mi ricorda un po' i tempi di Yu-Gi-Oh Quando tutti cercavano sempre le solite carte No, e nessuno riusciva a trovarle Mi sento proprio allo stesso modo Dammi, oh, 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 mamma mia Bella, bella Leggendaria del warrior Ok, questa è buona Questa è molto buona Anche perché il warrior non lo gioco Però potrei giocarlo Quella mi piace, mi piace Dai, adesso ultimi 10 pacchetti, signori Spolliciate e cerchiamo Dr. Boom Io vedo gente che con 20 pacchetti trova 6 leggendarie Ma che culo c'avete, signori Che culo c'avete Signori, me lo sento in quei due pacchetti C'è Dr. Boom Io me lo sento Ce ne sono solo due Solo due pacchetti Dai, una leggendaria almeno Se non è Dr. Boom, voglio una leggendaria Niente Ultimo pacchetto, signori Spolliciate Commentate Ed andiamo ad aprire Un cazzo, signori Un cazzo L'ultimo pacchetto è stato una merda Ok Abbiamo aperto la bellezza di 60 pacchetti di carte di Erson Vi ricordo che se volete comprarli Ovviamente c'è il negozio in game E' lì dove le ho comprate anche io Mi raccomando Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace E un commentino qua sotto E fatemi sapere se ne vorreste altri Noi ci vediamo al prossimo video Ad enjoy E crederete con voi Bye 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 bye